Contro le ragadi puoi provare dermovitamina ragadi, riduce il dolore con effetto barriera e aiuta la cicatrizzazione. Dermovitamina per le ragadi di mani e piedi. E in caso di freddo, dermovitamina ragadi e geloni, la crema per mani e piedi che protegge con effetto barriera. Labbra screpolate o con ragadi? Prova dermovitamina ragadi labbra. Dermovitamina ragadi.